Gian Diego Gatta, dopo oltre 25 anni il centrodestra, tra virgolette, rischia di sbancare? Ci interessa vincere, sbancare appartiene un po' alla logica dei casino e anche quella bancaria, ma ci interessa vincere per governare questa città, ci interessa vincere perché abbiamo un progetto, perché abbiamo un programma, perché abbiamo le idee chiare, perché abbiamo un ottimo candidato sindaco, perché siamo determinati ad assumerci delle responsabilità di profilo in quelli che saranno i ruoli di gestione della città. La città ha bisogno di essere governata, ben governata, ha bisogno di risolvere alcune ataviche criticità che si sono incancrinite sempre di più nel corso dei decenni, la città viene da una democrazia bloccata, oggi abbiamo bisogno di ripristinare il principio sacrosanto che è un principio democratico della democrazia dell'alternanza. Chi sbaglia, chi non riesce a governare deve essere rimandato a casa, dagli elettori alla sessione successiva. Quindi se non saremo capaci di governare nel quinquennio che ci attende, sempre che vinciamo come credo le elezioni, gli elettori avranno il diritto e dovere di rimandarci a casa, se però governeremo bene ci riconfermeranno e potremo dar vita ad altri progetti, ad altre realizzazioni perché la città di Manfredonia merita moltissimo, è stata piegata e piegata su se stessa da certe logiche, da certi metodi, da parte di chi si professa portatore del nuovo, della novità, da visi sconosciuti, da persone che questa realtà non l'hanno mai conosciuta, non ci sono nati o se ci sono nati non ci hanno vissuto, non hanno mai conosciuto le dinamiche della città, le sensibilità, persino gli odori delle strade, i quartieri e abbiamo bisogno invece di fare governare questa città, questo gioiello che ci ritroviamo, da persone che la città la conoscono e soprattutto che vogliono ribaltare certe logiche che l'hanno, ripeto, segnata. Siamo prontamente decisi ad assumerci queste responsabilità e confidiamo che il 7 di novembre l'elettorato Sippontino ci dia un pieno mandato facendoci vincere al primo turno per andare finalmente a ricostruire la città di Manfredonia.